dal vangelo secondo giovanni in quel tempo giovanni vedendo gesù venire verso di lui disse ecco l'agnello di dio colui che toglie il peccato del mondo e gli è colui del quale ho detto dopo di me viene un uomo che avanti a me perché era prima di me io non lo conoscevo ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché gli fosse manifestato israele giovanni testimoniò dicendo ho contemplato lo spirito di scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui io non lo conoscevo ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse colui sul quale vedrei discendere e rimanere lo spirito e lui che battezza nello spirito santo e io ho visto io ho testimoniato che questi è il figlio di dio è stato un figlio di dio è stato un figlio di dio è stato un figlio di dio sull' inizio si toglie i sulle